Prima di svelarvi questo incredibile aggiornamento, desideriamo ricordarvi l'importanza del vostro sostegno. Vi invitiamo a iscrivervi al canale e a mettere mi piace, al video. Grazie per il vostro prezioso supporto. La rinomata showgirl argentina Belen Rodriguez sta attraversando un momento di grande difficoltà a causa di una malattia. Questa notizia ha rapidamente fatto il giro dei media, generando crescente preoccupazione per la sua salute e il suo benessere emotivo. Belen ha purtroppo dovuto saltare alcune apparizioni, innescando discussioni riguardo a un suo temporaneo distacco dalla famiglia e dai figli. Le voci suggeriscono che la situazione sia diventata così difficile da spingere Belen a prendere una decisione estremamente difficile. Si dice che Luna Marie sia stata affidata alla sorella Cecilia Rodriguez e al cognato Ignazio Moser. Mentre Santiago sarebbe con il padre Stefano De Martino, accanto a Belen in questo momento di grande difficoltà. La sua famiglia, il fidanzato Elio Lorenzoni e gli amici sono al suo fianco in questo difficile percorso. Hanno manifestato pubblicamente la loro solidarietà alla showgirl, difendendola dalle critiche e sottolineando l'importanza dell'amicizia in momenti così difficili. Nonostante le sfide, Belen Rodriguez ha dimostrato di essere una donna forte e resiliente, un esempio di coraggio e determinazione per chiunque stia affrontando difficoltà personali. Vi chiediamo di mettere mi piace, commentare e iscrivervi al nostro canale. Il vostro sostegno è fondamentale, poiché ci permette di mantenere la capacità di offrire notizie fresche e aggiornate gratuitamente ogni giorno. Grazie per il vostro prezioso supporto.